Non è necessario acquistare una casa per investire nel settore immobiliare. Puoi distribuire i tuoi soldi in diversi tipi di proprietà come case, terreni e hotel invece di metterli tutti in una singola casa. Se un investimento va male, gli altri potrebbero compensarlo. Va bene Jenny, suona bene, ma come faccio? La risposta è con le socimi. Immagina una scatola con diverse proprietà, case, edifici, terreni. La socimi affitta proprietà e distribuisce i guadagni tra gli investitori che hanno partecipato. Se investi in una socimi, ottieni una parte di quei soldi senza dover preoccuparti di comprare o gestire proprietà. Ogni investimento comporta rischi. Se i prezzi delle proprietà diminuiscono, potresti perdere parte del tuo investimento. Ricerca accurata prima di investire è fondamentale.